Luca Zingaretti l'11 novembre ha compiuto 60 anni, l'attore famoso in tutto il mondo per le interpretazioni in tv del commissario Montalbano ha deciso di festeggiare il compleanno in famiglia spegnendo le candeline insieme alle due figlie, Emma 10 anni e Bianca 6, nate dal matrimonio con Luisa Ranieri che ha sposato nel 2012. Zingaretti ha condiviso sul social una rara foto che racconta il suo giorno speciale e non ho bisogno di altro, ha scritto postando lo scatto che lo immortala davanti alla torta abbracciato alle sue bambine. Grazie per la visione!